Musica Benvenuti gentili telespettatori ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nel complesso cammino del ritorno alla normalità, quella di venerdì, è stata decisamente una giornata importante che ha segnato la fine dell'obbligo delle mascherine all'aperto e la parziale riapertura delle discoteche e delle sale da ballo. L'andamento in decrescita della curva epidemiologica si sta d'altronde consolidando ed ulteriori allentamenti delle restrizioni sono già lo studio del Ministero della Salute. Intanto Manolita Scocca è andata a curiosare tra la gente per questo primo parzialissimo passo verso una situazione di normalità alla quale ci stavamo disabituando. Vediamo. C'è chi ha aspettato questa data con trepidazione e chi invece preferisce aspettare ancora un po'. Parliamo dell'obbligo delle mascherine all'aperto che decade da oggi dopo l'annuncio del sottosegretario alla salute Andrea Costa che ha confermato il provvedimento per togliere le mascherine su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni, dopo che si era detto che l'obbligo sarebbe caduto inizialmente solo nelle regioni che si trovavano in zona bianca. Vedo che lei non indossa la mascherina ma ce l'ha portata di mano quindi conosce le nuove regole. Certamente. E ne ha subito approfittato. Diciamo di sì anche perché non c'è assembramento. Si sta un po' più liberi. Sicuramente. Buongiorno. Vedo che lei non indossa la mascherina perché sa che da oggi si può stare anche senza all'aperto. Sì, io dovrei essere onesto e confessare che faccio fatica a portarla anche in tempi in cui si deve portare ma l'onestà fa parte di me stesso. Non la porto perché finalmente mi sembra una cosa assurda all'aperto avere l'obbligo della mascherina perché l'aria aperta se non si è in, come si dice, in assembramento non credo che sia necessaria. Però rispetto tutti ma sarebbe ora un po' di avere un po' più di libertà. Certo che non vedevo l'ora. Ti pensava portarla prima all'aperto? Sì, abbastanza. Però ce l'hai dietro? Certo. Quindi se serve la indossi? Per forza. Le mascherine sono state uno strumento formidabile nella lotta contro la pandemia Covid-19 e continueranno a essere le nostre compagne di viaggio ancora per un po', ha aggiunto il ministro Roberto Speranza, ribadendo che al chiuso le mascherine continueranno ad essere necessarie. Portalo sempre. Si sente più sicuro? Certo, per me e per gli altri. Oltretutto siccome ho un piccolo problema fisico, mi sento più tranquillo. Mi sono fatto tutte le analisi, tutte le punture, tutto di più. Però preferisce stare al sicuro? Sì, ho il Green Pass 1, Green Pass 2. Posso fare quello che mi pare, no? Cos'è tutta con le storie? Che la gente non va che se... Io ho tanto per il Green Pass e voglio fare. E passiamo a brevi notizie di cronaca. Nel pomeriggio di ieri una mamma e il suo bambino di due anni sono stati investiti da una vettura mentre attraversavano viale della Vittoria Iesi. L'auto viaggiava in direzione del vecchio ospedale quando all'altezza dell'hotel Mariani è avvenuto l'impatto con la mamma che aveva il piccolo in braccio. Immediati i soccorsi sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l'automedica e la croce verde di Iesi. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Salesi di Ancona in codice rosso. La presenza di lavoratori in nero ed invece la totale assenza del rispetto delle normative di sicurezza e d'anticontagio hanno portato i carabinieri ad un nuovo controllo ispettivo nei confronti di un autolavaggio di Porto San Giorgio già attenzionato. I militari hanno quindi eseguito il sequestro preventivo con la chiusura dell'attività e l'irrogazione di sanzioni amministrative per circa 38 mila euro. È corretto l'uso del tio pentone per il suicidio medicalmente assistito chiesto da Mario, 44enne tetraplegico marchigiano che ha ingaggiato una battaglia legale con l'azienda sanitaria unica regionale per l'applicazione della sentenza della consulta, cappato DJ Fabo. A deciderlo una commissione multidisciplinare di esperti. L'associazione Luca Coscioni parla di svolta storica. La battaglia legale è cominciata oltre 15 mesi fa e nelle scorse settimane Mario aveva anche denunciato il comitato etico e l'Asur Marche per il reato di tortura oltre che di omissione di atti di ufficio. A Fano è stato presentato il progetto Porto Futuro per riqualificare tutta l'area con una serie di iniziative. Sentiamo Lino Balestra. Quando pensiamo alle aree portuali delle città di mare dove la marineria ha un importante ruolo nel tessuto economico delle città pensiamo subito a luoghi un po' degradati, un po' abbandonati o anche addirittura schiavi dello stesso lavoro che si svolge in queste aree quindi aree non turisticamente appetibili però sono aree che dialogano con la città, col tessuto economico, con i cittadini con le persone che vengono nei luoghi di mare. Allora qui a Fano si tenta un esperimento innovativo quello di riqualificare tutta l'area portuale che dialoghi poi anche con il resto della città con un nuovo progetto. Si chiama Porto Futuro sono laboratori, incontri, street art, musica e nuove tecnologie. Qui in un luogo simbolo del Porto di Fano, il mercato ittico è stato presentato dal Comune questo progetto così possiamo dire avanti coi tempi? Sì, intanto parliamo di questo fermento che la città sta vivendo da alcuni anni un fermento culturale che si declina in tante iniziative e in tante espressioni ma la cosa che più mi piace in questo caso è questa innovazione, tecnologia che dialoga con l'arte ma che lega e valorizza anche il Porto nel tanti suoi aspetti, valorizza le relazioni, valorizza il lavoro che c'è, valorizza anche le presenze a cominciare dai cappannoni e con questa bella iniziativa di realtà aumentata ma non solo con tutta una serie di coinvolgimenti e suggestioni ma quello che mi piace sottolineare è che non è un'iniziativa spot ma sta in un percorso di riqualificazione complessiva che passa attraverso il waterfront, che passa attraverso un lavoro di valorizzazione culturale di tutta la tradizione legata al mare e questo mare, questo porto che ha quasi un unicum al mondo perché si lega e si inserisce quasi all'interno del centro storico arrivando fino alla darsena borghese quindi è una città che cresce, che si rende sempre più bella ma soprattutto anche in forte fermento e di forte contaminazione culturale Si parla di realtà aumentata, di tecnologia di ultimissima generazione un po' forme d'arte, un po' avanti che si coniugano però anche con un contesto storico, con una tradizione come siete riusciti in questo intento? L'idea era proprio di Porto Futuro chiamare anche Mettere Futuro nel nome anche quello proprio di fare un qualcosa che dialogasse con le nuove tecnologie ma che riprendesse gli elementi del passato e del presente l'abbiamo utilizzato ad esempio anche nel lavoro che abbiamo fatto di branding quindi nel logo e nell'immagine coordinata che parte dalle grafiche delle bandiere del porto che poi noi abbiamo reinterpretato dal punto di vista algoritmico e questo è quello che vorremmo portare anche all'interno del progetto di Porto Futuro e Porto Futuro come un laboratorio di sperimentazione con le nuove tecnologie che riguarda un po' tutto il tema marino perché Porto non è solo i capannoni o le barche ma è anche sostenibilità ambientale tutti i temi anche del presente che però ci riguarderanno nel futuro prossimo A Dubai le marche si promuoveranno come terra dell'eccellenza lo ha anticipato il vicepresidente Mirko Carloni partecipando alla conferenza stampa promossa a Cagli da Townnet la start-up ha partecipato con successo all'evento tecnologico più grande e importante nell'area Medio Oriente, Africa e Sudasia che attrae pubblico specializzato proveniente da tutto il mondo vincitrice del bando emanato dalla regione e dalla Camera di Commercio delle Marche l'azienda riproporrà a Expo Dubai 2020 la propria Smart Box un sistema integrato per l'alimentazione e il controllo di impianti di videosorveglianza e telecomunicazioni Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi nuova ordinanza ad Osimo del sindaco Simone Pugnaloni per limitare il consumo di alcol e il degrado nell'area del centro storico vediamo Schiamazzi e bivacchi, sporcizia, qualche accenno di rissa protagonisti, bande di ragazzini che soprattutto nel weekend esagerano il sindaco di Osimo corre ai ripari e firma l'ordinanza che limita il consumo di alcol in tutta l'area del centro storico dopo aver ottenuto l'ok della prefettura La Movida va bene ma anche rispetto della quiete pubblica Ad Osimo abbiamo investito tanto e abbiamo ripopolato il centro di giovani ma i giovani devono rispettare le regole l'ordinanza è dovuta perché i giovani in questi ottimi weekend non hanno rispettato le regole sono andati nei vicoli della città, hanno deturpato la città, hanno fatto chiasso e quindi era giusto e doveroso mettere ordine Vietato consumare bevande di qualsiasi genere in vetro dalle 21 alle 7 inoltre gli esercenti dopo le 23 e 30 potranno vendere qualsiasi bevanda ma solo nei dehors o immediate vicinanze dopo le 24 dovranno spegnere la musica infine dopo le 1 e 30 dovranno fermare qualsiasi somministrazione di bevande e cibi anche al tavolo Io credo che i commercianti mi capiranno, faranno delle riflessioni proprie però adesso ci vuole tolleranza zero verso chi sta deturpando e disturbando la città perché magari ubriaco, perché magari ha fatto uso di sostanze stupefacenti dobbiamo rispettare anche i residenti del centro storico Questo non vuol dire sindaco che i giovani non possano vivere la città, il centro divertirsi, frequentare i locali La gioventù deve solo imparare a rispettare le regole se no noi siamo quell'amministrazione che ha investito sui giovani perché a breve partiranno i lavori del nuovo cinema concerto chiuso da oltre 15 anni e per Natale avremo un nuovo cinema sta per aprire la gara per il ridotto del Teatro Roma Fenice altro luogo da 180 posti a sedere per fare musica per fare spettacolo, per fare attività culturali per i giovani abbiamo investito sul certificato di prevenzione incendi nel mercato coperto si potranno fare attività con oltre mille persone quindi attività regolate poi che cosa succede? succede che 8 ragazzi su 10 rispettano le regole per quei 2 che non le rispettano occorre fare l'ordinanza io faccio un appello importante anche ai genitori dobbiamo imparare ai nostri figli il rispetto delle regole ed educarli alla legalità io spero che con questa ordinanza e con la presenza delle forze dell'ordine i ragazzi capiscano il rispetto delle regole si possa tornare quanto prima alla normalità e si possa con l'arrivo della primavera e con l'arrivo dell'estate pianificare tanti di quegli eventi che riempiranno il centro di giovani e di adulti non sarà una città blindata no, sembra in questi momenti che il sindaco voglia blindare la città non voglio blindare la città voglio che i nostri giovani imparino a rispettare le regole l'ordinanza viene considerata un giusto compromesso tra le esigenze dei commercianti e i diritti dei residenti oltre che uno strumento di prevenzione utile soprattutto per consentire alle forze dell'ordine di reprimere in maniera ammirata le situazioni di degrado visto che la violazione prevede multe da 500 a 5.000 euro è stato presentato il volume Marche 100 itinerari più uno si tratta di un libro pensato per gli appassionati di escursionismo desiderosi di immergersi tra le bellezze di questo splendido angolo d'Italia una guida utile e pratica per orientarsi tra cinque province cariche di fascino storia e cultura le interviste di Gianluca Biondi Monica Mancini Cilla vicepresidente della Svem sviluppo Europa Marche alla presentazione del libro Marche 100 itinerari una bella iniziativa della vostra associazione, del vostro ente oggi è la prima uscita e sono emozionata la Svem è un ente partecipato interamente dalla regione Marche io svolgo il ruolo insieme al nuovo CDA recentemente nominato dalla regione il 14 gennaio quindi siamo di fresca di nomina vicepresidente della Svem il presidente è il dottore Andrea Santori e Tablino Campanelli di San Benedetto del Tronto io rappresento il Piceno oggi qui sono molto emozionata la padrona di casa faccio la padrona di casa sì ho questo ruolo qui al BIM Trondo quindi saluto il presidente e lo ringrazio la Svem come dicevo è un ente totalmente partecipata dalla regione Marche che svolge un ruolo importantissimo sul territorio quello di attrattori di finanziamenti ma soprattutto quelli di ricondividerli sul territorio questo è la prima uscita di un progetto interamente finanziato dalla Svem nel 2021 con un bando vinto dall'Arci Macerata che ha avuto poi il proseguo il libro io lo consiglio a tutti a me ha veramente emozionato i cento itinerari di tutta la regione Marche di cui io sinceramente non ne conoscevo nemmeno le realtà come faccio tante cose sono presidente dell'ERA per le case popolari però questa è la mia passione la mia vita grazie ai collaboratori non nasce proprio per caso questo progetto nasce perché noi abbiamo un'associazione con 23.000 soggi nelle Marche e perciò abbiamo praticamente in tutti i territori i punti di riferimento abbiamo coinvolto non solo l'Arci perché non è un progetto solo Arci il progetto Arci sì ma che parte dall'Arci perciò abbiamo coinvolto tanti diciamo persone escursionistici e anche le persone escursioniste ma anche le persone che di fatto praticano questa vita in tutta la regione perciò abbiamo creato i gruppi di ascolto e di lavoro in tutta la regione sono contento di stare a Ascoli sinceramente perché io penso che vabbè lo sa tutti che il PGN è la parte più bella dell'area dell'entroterra delle Marche è bello e qui ho trovato anche un clima molto positivo e istituzionale è un progetto veramente credo importante credo fatto bene io poi ho curato la parte politica ma non la parte tecnica credo che la comunicazione sia stata fatta ad alto livello tanto che stiamo parlando di una di una casa elettrice di livello nazionale con una pubblicazione 101 itinerari la bellezza delle Marche non la scopriamo con questa guida però abbiamo visto dei percorsi inediti ma sono contento perché si vede che abbiamo fatto bene il lavoro guarda io ho fatto tantissimi anni l'assessore dell'amministratore comune e provincia sempre parliamo dell'entroterra quasi mai agiamo per l'entroterra ce ne parliamo sempre ma poi sostanzialmente facciamo poco se non lo facciamo adesso siamo delinquenziali politicamente perché in realtà dobbiamo lavorare proprio per la valorizzazione poi Ascoli è favolosa ok ma dobbiamo valorizzare l'entroterra proprio con le sue specificità secondo me l'entroterra è la parte più bella delle Marche in realtà e perciò ogni strumento anche questo si inserisce un ragionamento che è appennino d'oro un progetto più ampio che ha fatto la Sbem una pubblicazione un libro non solo per i marchigiani no esatto tanto che lo presentiamo a Roma purtroppo dobbiamo presentare la Bruxelles ma come capite in questa fase non dobbiamo sfidare neanche gli eventi voglio dire perciò oggi facciamo però è un valore grosso simbolico quello di partire da Ascoli poi faremo in Ancona in realtà perché comunque la legione Marche parte in causa ma poi a Roma perché comunque Roma come sapete è una città marchigiana nel senso che c'è tantissimi marchigiani vogliamo proprio e la casa la distribuisce in tutta Italia ovviamente perché è uno strumento nazionale ricordo un aspetto che in realtà poco si coglie di solito pensiamo sempre al nostro interno le Marche hanno bisogno di essere conosciute in giro per l'Italia è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci scelto buon fine settimana grazie per aver guardato il nostro canale